Musica Mi chiamo Maurizio e lei è il papà di Max e da qui per vivere una giornata è un po' insolita. Volevamo chiederle quali sono le sue aspettative di oggi per sé e per il suo figlio. Per Max sicuramente l'emozione, perché già l'ha provata, è una cosa molto carina, personalizzare con gli altri ragazzi, è una cosa molto bella, è un'esperienza bella. È bella perché poi il mare gli piace molto e quindi funziona. Anche un'ora sulla barca poi è diventata la giornata di questa cosa, di questa emozione. Si ricorda cosa ha raccontato dell'esperienza dell'anno scorso che ha fatto con la mamma? Lui fatica molto a esprimere le sue emozioni, però quello che vivi è poi la giornata, cioè quello che si ricorda e anche nel momento che parli della barca, perché lui abbia avuto esperienze simili, anche qualche imbarcazione, lui si emoziona molto. Quindi è una cosa che lo colpiscono, lo colpiscono molto. E invece dicevamo la seconda domanda per le sue aspettative di oggi. Le mie sono sempre queste, di vivere con lui, di vivere delle emozioni e condividerle, perché è molto difficile con questi ragazzi condivere le emozioni insieme, infatti facciamo delle cose io e la mamma per condividerle le esperienze con lui, fargli fare delle cose diverse. Questa è una, le altre sono, io vado un po' qui, in altre emozioni con la canova, o piuttosto con i pazzini, con tutte le cose che riusciamo a fargli fare, perché alcune cose qui non riesce a fare. Grazie, Maurizio. Credo che sia una bellissima iniziativa, Gabriele poi è amante del mare, perché noi andiamo al mare, quindi lui adora tutto ciò, la barca specialmente, e ci piace molto. Sì, sì, molto emozionato. E molto, ecco, l'ha preparato a questa giornata? Sì, sì, gli abbiamo raccontato di come sarebbe stata, insomma, l'esperienza che andrà a vivere, certo. Quindi siamo venuti prima, gli abbiamo fatto vedere tutto il porto, le barche, quindi la cosa sua adesso, ecco, non vede l'ora, difatti ogni tanto comincia a dire, barca, barca, salire, barca. Posso chiedere come è venuto a conoscenza di questa iniziativa? Noi facciamo parte di un'associazione che è l'AXA, siamo un gruppo di genitori autistici, e stesso la presidentessa dell'associazione ci ha proposto di questo progetto, gli voleva partecipare, noi ben volentieri, perché noi amiamo il mare, quindi lui pure il mare lo adora, quindi questa esperienza sulla barca gli piace molto. Grazie. Di nulla, grazie a lei. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.